È una lista che ha come rappresentanza simbolo il girasole, perché oltre alla bellezza del fiore è un fiore che cerca il calore, cerca la luce, sintomo di trasparenza, il calore di passione per il territorio ma anche di vita e su questo volevo lavorare. Un gruppo di lavoro che lavora da 5 anni insieme, c'è qui con me Alessandro Oliva, uno dei giovani prestanti. Abbiamo fatto un percorso diverso, per creare quello che abbiamo creato l'abbiamo fatto partendo dai cittadini e grazie a un amico informatico, grazie a loro siamo andati sul territorio e abbiamo raccolto queste interviste. È venuto un lavoro eccellente, che ha portato a far sì che potessimo creare un programma e su quel programma ponderare le persone. Abbiamo un programma secondo me molto bello, innovativo, che parte dal territorio. Quali sono in sintesi, proprio rapidissima, i punti della Monbaroccio che vorreste? La Monbaroccio la vorrei dinamica, sveglia, attiva, sul territorio presente, che si sappia rapportare con i cittadini, che con i cittadini si sappia confrontare, essere in mezzo alla gente. Cosa che è venuta a mancare negli ultimi anni. Abbiamo un'idea su un centro storico che porti al recupero del borgo tramite e-commerce. Si stiamo relazionando con tante aziende vinicole per poter riaprire le saracinesche del centro storico, sgramando dell'IMU i possidenti di quelle attività sfitte su cui pagano l'IMU e dall'altra portare le aziende vinicole gratuitamente lì dentro per poter far sì che possano esporre in modo per ridare vita e lusso al territorio. Una biblioteca aperta, perché ci sono gli spazi per poterlo fare. Sono tutte cose che ci costano zero. Non lavoreremo solo sul bilancio economico drasticamente in difficoltà anche dopo la gestione Vichi, con 500 e passa 1.000 euro di mutui accesi solo nell'ultimo semestre. Accendere 500.000 euro di mutui in un comune come il nostro, piccolo, in un periodo così breve, vuol dire pagare interessi in spesa corrente importanti e quelli gravano tutte sulle tasche dei cittadini. E quindi oltre al bilancio economico vorremmo lavorare veramente su un bilancio sociale. Un bilancio sociale che va sul legame che c'è tra noi e il territorio, su quell'iniziativa a costo zero che possono far sì che Monbaroccio possa trovare la coesione tra abitanti, amministrazione e associazioni.